mamma mia che freddo, sono sempre in questa casa, meglio mettermi due coperte qua perché una, non so neanche se mi basta, due, mamma mia oh, Liso, vieni che guardiamo un film, eccomi, ma non è caldo con tutte quelle coperte, ma tu non hai freddo, ma sei pazzita, ci sono 25 gradi in casa, appunto, no, Liso, vuoi un po' di coperti, no, no, grazie, ma sei matta, coppiti, no, ho caldo, meglio così mi copro, io sto freddo, mamma mia non vuole neanche guardarti, ma come fai a stare così, eh, oh, ma raga, ma è caldo, fai in questa casa, scusami, cioè, quando hai comprato un uomo climatizzatore, quindi mi sto morendo di caldo, loco, mi fai un po' zitto, ma tu cosa fai, tu te la guarda da taccosi, scusami, ma fai a me, con la cuffia in casa, ma certo, ma sono anche le pappucce, ma cosa, ma per forza, ma ci sono 25 gradi, dai, su, guardiamo sto film e basta, mamma mia, io posso guardare il film così, no, no, faccio i punti qua, esatto, così mi guardo in film, dai, dai, su, guarda il film, no, 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 con la sciarpa, tu sei matta, io ci sto impazziti, oh, raga, prima del film credito, se mangiamo qualcosa, certo, sì, va bene, la fatta dire, ok, io, io metto i guanti, ma, cos'è che sta facendo, questi guanti, non fa venire caldo, ma fa freddo, ma i guanti, ma tu, ma, 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 tu. Con le coperte, certo, pure il copio e orecchie, certo, ma, scherzi, anzi, mi porto via, ma, dove siamo, visto che voi, non le potete, ma, sei matta, vabbè, ma, ma, ceci, cosa c'è, scusa, freddo, ok, ok, va, perché non prendiamo anche i biscotti, buone, lo sto pensando anch'io, andiamo a dire la ciccia, C'è che tu prendi altri biscotti? Ma cosa ha fatto a piedi nudi? Eh, ma, fa un caldo, scusami, ma voi siete pazzi, ma, 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 ma 30.000 3.500 Eh vabbè Elisa è la sua volta freddo rosa E voi senti i soliti calorosi Oh raga avete preso da bere? Eh no Eh non ancora Vai allora prendiamo un po' di acqua va bene? Sì io prendo la temperatura ambiente Ma che temperatura ambiente? Ma cosa? Perché tu come la prendi? L'acqua del frigorifero Ma sei impazzito guarda che siamo a novembre No E' ghiacciata quell'acqua Bella fresca Hai ragione siamo a novembre Non siamo a gennaio Quindi è un po' più caldo del solito Prendo un ghiaccio Guarda che ti prende la polmonite Ma che polmonite Un bel ghiaccio Sì 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 Dai Ceci fai fretta che dobbiamo uscire Posso vedere un po' qua Che caldo mamma mia Tu andiamoci subito Questo giubinetto Questo giubbinone Ceci ci sei? Benissimo Dai vai perfetto Perché fa anche caldo oggi Davvero? Certo C'è la storia Puoi sentire? Lo spiazzo? Poverdissimo Luca Ma sono qua i mele di corte Io No 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 Io metto un altro cappello Ma che stanno spiazzando? Doppio cappello Sciarpa Come è doppia sciarpa? E' doppio giubbino Doppio giubbino Ma fai scherzando? No 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 Ma non ci sono meno 30 gradici Se ne saranno 5 Di più? Meno 50 Ecco Vabbè Niente Andiamo Mi sono a posto A posto? Si Anche qualcosa? Si Ah è giusto Non vai mettere di colore per le orecchie C'è anche magari Per le orecchie Fatto A posto? Si Perfetto Andiamo Andiamo Bene ragazzi Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se fosse stato così Un bel pollicione in su Mi raccomando E se avete la possibilità Se ci saranno i commenti attivi Commentate se volete Altri video di questo genere Si Noi saremo felicissimi Di produrli Yes Perché ci divertiamo un sacco A fare questi video qua Anche perché Convolgiamo bene tutti Si E' una piccolina E anche la ciccina Io sono veramente fredolosa E infatti Questo video Ma sto benissimo così Questo video infatti è idoneo Proprio alle nostre cose Se questo video racconta delle verità Mi raccomando ragazzi Seguiteci su Instagram Io mi chiamo Lucas.official Io Zanatina Io Cicciofficial Io Marco.zanotti Mi raccomando Seguiteci anche su TikTok Io mi chiamo sempre Lucas.official Uguale Io Zanatina Io Cicciofficial E io Marco.zanotti Quindi Tutti uguali Perfetto E ragazzi C'è un altro video Ciao belli 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 Ciao belli